Un saluto a tutti, bentornati, seconda trasmissione sull'Unità d'Italia. Parliamo sempre da un punto di vista storico e l'unificazione è sicuramente frutto di una serie di eventi storici, pregressi, precedenti nella storia che vogliamo ricordare con una certa oggettività. Anzitutto ricordiamo, prima dell'Unità d'Italia, i moti del 1848 che misero a ferro e fuoco o comunque accesero forti focolai in tutta Europa, ma noi ce ne occupiamo soprattutto in Italia. Furono molti per una forte insofferenza che c'era nei confronti della dominazione austriaca, dell'Austria e Ungheria. Nel Regno Asburgico infatti erano compresi due delle regioni più ricche oggi, almeno una delle due sicuramente, ma credo anche la seconda, la Lombardia e il Veneto, il Lombardo-Veneto. La centralizzazione di questo scontento, soprattutto da parte degli altri nordici, c'è i Piemontesi e quindi il fatto che volessero togliere il Lombardo-Veneto all'Austria, anche e soprattutto per motivi economici, ci fa pensare che il dominio del Piemonte sul Roma e sul Sud fosse un po' in un certo senso la conseguenza di questo malcontento. Di fatto, diciamo, inscritto o se volete circoscritto, e sarebbe più grave, allo scopo di unificare l'Italia, c'era lo scopo anche di riprendersi questa larga parte del nord, il Lombardo-Veneto. Poi citiamo le due guerre di indipendenza, la prima nel 1848 scoppiò, la seconda scoppiò nel 1859, la prima fu drammaticamente fallimentare, la seconda fu vinta soltanto grazie all'aiuto dei francesi e di Napoleone III, con una umiliazione alla quale perfino l'orgogliosissimo Cavour non seppe reggere, quando l'Austria cedette nei trattati di pace, la Lombardia alla Francia e la Francia regalò la Lombardia al regno sabaudo, per cui Piemonte e Lombardia erano sotto la corona del re. Ci fu anche, attenti bene, se ne parla poco anche nei testi, una terza guerra di indipendenza, una mini guerra di indipendenza, dopo la quale l'Italia, che però era già unificata perché avvenne questa terza guerra dopo il 1861, si riprese anche il Veneto, anche lì però con l'ennesima umiliazione lo fece grazie alla Prussia e grazie al Bismarck, il conte Otto von Bismarck, un terribile anticlericale, ricordiamo il Kulturkampf, cioè la battaglia per la cultura che altro non fu nel regno prussiano se non una battaglia contro la Chiesa, contro la fede cattolica e un esproprio dei beni della Chiesa. Questo avvenne perché la Prussia aveva sconfitto l'Austria a Sadova nel 1866 e dopo la pace tra Prussia e Austria, di nuovo fu Napoleone III, come aveva fatto per la Lombardia, a prendersi il Veneto e a cedere di nuovo l'Italia e a cederlo di nuovo all'Italia, cioè al regno sabato, anzi allora era ormai già Italia. In pratica il disegno egemonico dei Savoia sarebbe stato fallimentare e del tutto mal riuscito, se non addirittura ridicolo, senza l'aiuto di potenze straniere. Altri eventi da ricordare, anche se non strettamente legati all'unità, ma sicuramente sul filo ideologico che guidò l'unificazione dell'Italia. Uno l'abbiamo già ricordata, il 9 febbraio 1849, come avevo detto nell'altra trasmissione, quasi per una sorta di rivincita per il fallimento della prima guerra d'indipendenza. Il cosiddetto triunvirato, fatto da Saffi, Armellini e Mazzini, cacciò il Papa Pio IX da Roma e lo cacciò, come dire, con una sorta di oscura profezia di quello che poi sarebbe successo 21 anni dopo, nel 1870, il 20 settembre, con la presa di Roma. Il Papa dovette fuggire a Gaeta nel novembre, era già fuggito a Gaeta nel novembre 1848, quando i venti di questa annessione di Roma da parte di questo triunvirato si facevano sempre più gelidi e pensate lì sotto la protezione, stette a Gaeta sotto la protezione di Ferdinando II di Borbone, pensate che a Gaeta, questo interessa i credenti, ebbe l'ispirazione in una cappella dove, apro e chiudo parentesi, è conservata ancora una tela della Madonna e la cappella d'oro della chiesa dell'Annunziata a Gaeta, ebbe l'ispirazione pregando di proclamare il dogma della Immacolata Concezione con la bolla Ineffabilis Deus, che poté scrivere a San Pietro l'8 dicembre del 1854, l'Immacolata Concezione, cioè quella verità di fede secondo cui Maria è stata preservata per speciale privilegio dalla peccata originale per poter essere pronta a partorire il figlio di Dio. Una seconda cosa, i governi piemontesi, in attesa di divorare il resto dell'Italia, divorarono i beni della chiesa nel Regno di Sardegna. Fu allora che cominciò a brillare la stella di Camillo Benso, conte di Cavour, nato nel 1810, morto nel 1861, l'anno dell'unità. Il suo primo governo, di cui egli fu presidente del Consiglio del Regno di Sardegna, fu nel 1852, prima di lui c'era Massimo D'Azeglio. Massimo D'Azeglio, quello dell'Italia, se fatto, ora bisogna fare gli italiani, permise suo malgrado a Giuseppe Siccardi, un ministro del suo governo, di presentare leggi liberticide della chiesa. Infatti prima di mettere le mani su Roma, i piemontesi lo fecero con i beni della chiesa nel Regno Sabaudo, che erano a disposizione del popolo, dell'istruzione dei poveri, come sono sempre stati i beni della chiesa. Forse avranno anche arricchito qualche ecclesiastico, ma i beni della chiesa erano beni per la gente. Una terza cosa da ricordare, anche Cavour ebbe una politica religiosa abbastanza devastante. Dopo Siccardi, anche peggio di lui, fece un altro personaggio, Urbano Rattazzi, che nel 1855 vergò la legge dei conventi, qualcuno la chiama anche legge dei frati, che si permetteva di abolire, pensate, lo Stato aboliva ordini religiosi, teoricamente perché non erano di vita attiva, cioè quelli di vita contemplativa. Una cosa che oggi sarebbe impensabile, se non in dittature drammatiche come la Cina o come Cuba o come il Venezuela. In realtà di questi ordini di vita contemplativa Rattazzi voleva confiscare i beni e venne fuori da Cavour la famosa formula libera chiesa in libero Stato, che avete sentito molte volte, una delle formule più false e tendenziose, perché significava in realtà la libertà totale e totalizzante dello Stato di gestire i beni delle società sussidiarie, di uno dei quali era la Chiesa e questo fu un drammatico anticipo degli Stati a ideologia marxista. Da ricordare alcune cose riguardo a Cavour, il tentativo di modernizzazione economica, molto positivo che Cavour fece, ovviamente limitato al Regno di Sardegna, improntato a un astuto liberismo economico, avendo come strumento, ma anche come obiettivo, l'arricchimento della già ricca borghesia piemontese. Di Cavour si ricorda il famoso Canale Cavour, che ancora oggi esiste, lungo 82 km, che ha origine a Chivasso e si getta nel fiume Ticino. Poi il grande lavoro di costruzione del traforo del Frejus, ricordando però che ovviamente con queste grandi opere statali il debito pubblico del Regno di Sardegna salì a 725 milioni di lire, il che giustifica con molta evidenza il tentativo rapace di mettere le mani sul sud, che allora era molto più ricco del nord. Poi la spregiudicata politica diplomatica di Cavour, per ottenere il sostegno contro l'Austria-Ungheria nelle guerre in indipendenza, partecipò al congresso di Parigi nel 1856, primo dello scoppio della Seconda Guerra, e in questo congresso, con un abile discorso, cercò di ottenere l'appoggio della Francia e la neutralità della Gran Bretagna. Tutto questo i piemontesi però lo pagarono, partecipando un anno prima, nel maggio del 1855, alla famosa guerra di Cremea, del tutto inutile per l'Italia del tempo, l'Italia non era affatto interessata questa penisola sul Mar Nero, fatta solo per andare al rimorchio di Francia e Gran Bretagna che lottavano contro la Russia. Costò centinaia di morti italiani per la politica dell'unità d'Italia, intesa dal punto di vista di Cavour. Abbiamo finito, alla prossima!